Miti ed intorni, teti. C'è teti e teti. In principio fu caos, inizia così il racconto delle origini nelle scritture mitologiche di varie civiltà del vicino oriente e su testi titi-babilonesi si basa esiodo quando scrive la sua teogonia. Caos è senza forma, una voragine oscura dove niente può essere distinto, è il vuoto primordiale, abisso cieco e senza limiti, indefinito. Poi arriva il tempo dell'ordine, anzi non il tempo perché ancora Kronos non è creato. Arriva il bisogno di una logica perché una logica ancora non c'è. Dal buio, del buco più nero, più scuro, dal rumore sordo che si diffonde all'infinito e rompe quel muro del suono e persiste in eterno, si può ancora sentirlo, si stacca un grumo di materia complessa. Si contorce, assume la forma più bella e completa. È un'urna segreta che contiene il tutto, l'inerte e il vivente. Gea conosce il suo potere, lei sente la forza creatrice che ha dentro. Da sola le genera urano, da sola le genera ponto. Poi con loro, lei genera un'infinità di creature che restano eterne, gli dèi primordiali. Tra queste creature troviamo titani e titanidi, in particolare oceano e teti. No, non si tratta della ninfa del mare e madre dell'eroe più famoso della guerra di Troia, ma di una dea che, con il suo compagno e fratello, genera migliaia di esseri acquatici, fiumi, sorgenti, fonti. È una coppia generosa e pacifica che rifiuta di intervenire nella guerra tra gli altri titani e gli olimpici. Il nome della Titanide si scrive in greco con l'iniziale Tao. Pochi testi ci parlano di lei. È citata nel canto XIV dell'Iliade, quando Hera cerca di convincere Afrodite a fornirle i mezzi per riannodare i cuori di Teti e Oceano, mentendo in quanto ha intenzione di usarli a proprio vantaggio nel suo rapporto con Zeus. Così parlò l'Augusta Hera ricorrendo all'inganno. Dammi l'intimità dell'amore e il fascino del desiderio con cui sottometti tutti i mortali e gli immortali. Devo andare ai confini della fertile terra a far visita a Oceano, padre degli dèi, e alla loro madre Tetis. Sono stati loro a nutrirmi, ad allevarmi nella loro casa, prendendomi dalle mani di Rea, quando Zeus in abisso crono sotto la terra e il mare deserto. Ora vado a trovarli, voglio porre fine a un lungo litigio. Da tanto tempo ormai non stanno più insieme nella gioia dell'amplesso, da quando è entrato il rancore nell'animo. Se riesco con le mie parole a persuaderli, a spingerli a letto, a unirsi in amore, sarei sempre per lei degna di affetto e di gratitudine. Ecco, qui possiamo comprendere il carattere pacifico e ospitale della coppia Oceano-Teti. Essi infatti hanno ospitato Era quando, spaventatissima, si era rifugiata da loro quando la guerra squassava l'universo. E ancora Teti compare nel mito di Era quando la aiuta a generare Efesto per Parterogenesi, secondo la versione di Esiodo. La titanide Teti è legata ad Oceano, Teti è legata all'acqua, Teti genera il Nilo, l'Alfeo, il Meandro, le Oceanine. Il suo nome deriva forse da un termine accadico che significa mare, oppure da un termine greco antico che significa prendersi cura. E questa Teti racchiude in sé, pienamente, i due significati. E poi c'è un'altra Teti, il cui nome in greco inizia con la lettera Teta, che porta una pronuncia simile a TH inglese, ovvero TETIS, ma nella traduzione italiana resta sempre Teti o TETIS. Anche questa Teti è legata all'acqua e vediamo la sua genealogia. Agli albori del mondo ordinato, Gea, detta anche Gaia, oltre a generare per Parterogenesi urano, genera anche Ponto, che è la personificazione del mare in genere, il mare primordiale, una figura più astratta di Oceano. Dall'unione di Gea con Ponto nascono Taumante, Forco, Ceto, Euribia e Nereo. Nereo è il dio delle profondità marine. Il suo nome rimanda Nearos fresco, acqua fresca. È una divinità amata dai Greci per il suo carattere lieto, per la sua serenità e sapienza. Abita nel fondo del mare, in una reggia luminosa, con sua moglie Doride, una delle tremila figlie del Titano Oceano e della Titanide Teti. La coppia genera almeno 50 figlie, le Nereidi, fanciulle dai capelli intrecciati di perle, di cui alcune spiccano per bellezza e per i legami con le altre divinità. Tra le Nereidi troviamo la Teti, cui abbiamo accennato, e sarebbe, usando i nostri parametri moderni, la nipote dal lato materno della Teti Titanide. Anche lei è quindi legata profondamente alle acque, sia per ascendenza materna, oceano, che paterna, punto. Teti, questa con la lettera iniziale Teta, è bellissima ed è corteggiata appassionatamente da molti dei, che desistono dal corteggiamento solo quando apprendono da un oracolo che lei avrà un figlio che sarà più importante e forte del padre. Meglio evitare, si dicono Zeus e Poseidone, che conoscono bene i problemi di discendenza, hanno avuto esperienze con Urano, Cronus, eccetera. Ok, meglio vada in sposa ad un mortale, di rango naturalmente, ma un mortale che si prenda onori e oneri di una tale moglie. Ecco quindi che, volente o nolente, Teti si trova incastrata in un matrimonio col prescelto degli dei, Peleo, anzi, sicuramente nolente. Questo Peleo è il figlio del re dell'isola di Egina. ha una vita piuttosto movimentata, tra fratricidi, fughe rocambolesche, spedizioni, eccetera. Arrivato a Ftia, sposa Antigone, la figlia del re del luogo, e di nuovo un incidente mortale in famiglia, di nuovo fuga all'estero. Arrivato a Iolco, avendo respinto le avance della regina, lei è accusato da lei di averla importunata, storia vecchia che ritroviamo periodicamente in derrazioni di molti popoli, eccetera, eccetera. Poi finalmente conosce Teti, la nostra Teti con la Teta iniziale. La Nereide vive nelle acque, ma ama andare a riposare di tanto in tanto in una caverna su una riva deserta, dove è trasportata da un delfino. Nel fresco della verde caverna dorme serena quando un giorno la scopre, certo non per caso, ma per volere degli dèi, Peleo, che subito è acceso dal desiderio di farla sua. Non sa che lei non è una fanciulla normale, ma una divinità esperta in trasformazioni. Infatti, quando lei si sente stretta dalle sue braccia di semplice mortale e non fa niente se bello o muscoloso, si ribella immediatamente, si divincola e poi pensa di sfruttare le sue capacità mimetiche. Figuriamoci l'espressione di Peleo quando si accorge di abbracciare un serpente. Assurdo! E poi il serpente si tramuta in albero, ma dai, non siamo ridotti ad abbracciare un tronco, si dice Peleo. Poi addirittura stringe una fiamma, basta, non si può. Lascia andare tutto, ma gli brucia la sconfitta. Ce l'ha sempre in mente, l'anereide, dall'incarnato pallido, i capelli, impreziositi di perle. Teti non lo vuole proprio. Lei che è abituata ad essere corteggiata da dei, esperta in trasformazioni, riesce a sfuggirgli ogni volta che torna alla carica, diventa ruscello, albero, serpente, polpo, leone. Peleo rinuncerebbe, ma il suo destino è sposarla. Abbracciare quegli esseri è un'impresa impossibile, dai, ma Peleo arriva all'aiuto del saggio Chirone, che gli consiglia di tenere duro, di non pensare a serpenti, tronchi, fuochi, ma restare fermo e tenace in un abbraccio inconsueto, dopo l'ennesima trasformazione, Teti, infatti, ogni tanto ritorna al suo aspetto normale e voilà, il gioco è fatto. Peleo la fa sua, in quel momento sfuggente, di ritorno alla normalità. E, ok, si convola a nozze. Che festa, ragazzi, che invitati di lusso, un ricevimento a 5 stelle, tra cibo fumante e profumo di ambrosia. Le muse ci sono proprio tutte, a rendere speciale l'evento. Ma la lista degli invitati ha una lacuna, una dea proprio no, non la vogliono gli sposi, è di un'antipatia unica, mette sempre zizzagna. L'invito non è spedito, ma la notizia arriva comunque ad Eris. Già, si tratta di Eris, la dea della discordia, quella che è in grado di insinuarsi in un contesto, camuffarsi, restare per un po' piccola piccola e poi crescere a dismisura, quella che provoca un caso sbelli e poi scatena l'inferno. Ormai la conosciamo tutti, purtroppo. Non invitandola, però, i due sposi hanno comunque fatto un errore fatale. Lei arriva comunque nella sala del banchetto e lancia tra gli invitati una mela d'oro, sottratta al giardino delle Speridi. sull'albero di queste mela c'è tutta una lunga storia. Sulla mela è scritto alla più bella. Tutti noi sappiamo come è andata a finire. La mela è assegnata da Paride ad Afrodite, che gli ha promesso in cambio l'amore. Insomma, questa mela è l'origine della guerra di Troia. Gli sposi non riescono mai a perdonare Eris. Dalla loro unione nascono comunque diversi figli, tra cui Achille. Ecco, è lui il figlio troppo forte che non avrebbero gradito avere né Zeus né Poseidone. Man mano che nascono la madre divina passa i vari figli sul fuoco. Sì, proprio così, una passata sulla fiamma e li rende immortali. Peleo non si accorge di niente, probabilmente. Fa così anche con Achille e Teti. Lo rosola un po', tenendolo per un tallone. Qualche autore dice invece che per i suoi intenti Teti si serve delle acque dell'ostige, versione che io preferisco senz'altro. Però, stavolta, non rifinisce bene il suo lavoro bagnando il bambino completamente. Il suo piccolo tallone resta asciutto e a noi è rimasta impressa questa inosservanza, tanto che cerchiamo in noi il tallone di Achille e lo troviamo nei posti più impensati, spesso nella nostra sfera emotiva. Peleo non gradisce tutti questi armeggi della moglie e lei si offende con questo marito mortale che non vuole capire le tecniche degli dèi e se ne torna a vivere nelle sue dolci, fresche acque. Achille è affidato al saggio Chirone affinché gli fornisca una giusta educazione. Chirone lo introduce nel mondo della musica, della natura, dell'erboristeria e delle arti marziali. Di tanto in tanto la madre va a trovarlo. Questo figlio bellissimo dai capelli d'oro e gli dà consigli e informazioni. Lei è una dea e sa che lui è destinato a grandi cose, a grande fama nel mondo. Certo, tutta un'altra cosa rispetto a suo padre, anche se il patronimico gli resterà addosso. Lo chiamano il pelide, mica dicono il figlio di Teti. Ma così va la società maschilista. Lei conosce la forza del figlio e le sue potenzialità, ma sa altrettanto bene il suo destino morire giovane dopo la morte del troiano Ettore. E così cerca in ogni modo di sottrarlo agli scontri. Ma per colpa della mela d'oro di Eris la guerra scoppia davvero. Teti ricorre allora a un espediente piuttosto strano. Fa nascondere il figlio tra le principesse e la corte del Re Licomede. Vestito da fanciulla proprio così, con i capelli raccolti, le membra meravigliose, celate, sotto vesti femminili e a chi le passa mesi suppongo piuttosto imbarazzanti. Com'è bella questa fanciulla coi capelli di un biondo ardente non per niente il nome fittizio è Pirra Rossardente. Ma com'è alta? Anche se probabilmente pensa a Patroclo, Achille genera un figlio con Deidamia, la figlia del Re. Scoperto l'inganno del travestimento femminile da parte dell'astuto Odisseo, comincia la sua personale Odissea, anzi Ilia Teti che tutto sa che tutto vede Teti soffre vivendo nelle sue acque più profonde ma non più tranquille e sa che soffrirà per sempre perché è una dea che non è riuscita a rendere immortale il suo figlio più valoroso. Post scriptum il figlio di Achille e di Deidamia si chiama Neottolemo ma è soprannominato Pirro a causa della sua chioma. Cresciuto un po' tanto la guerra dura decenni partirà per Troia dopo la morte del padre ma non avrà mai la stessa fama di Achille. di Achille